Ciao a tutti, oggi andremo a preparare la nostra pizza, la parla pa. Seguite! Come prima cosa stendiamo il panetto di pizza. Aggiungiamo il primo ingrediente, la crema di patate. Aggiungiamo la mortadella. Pronti per andare in forno? La nostra pizza è pronta. Tocco finale, andiamo ad aggiungere la nostra burrata. Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito!